La scelta del mister è stata una scelta abbastanza nello specifico, perché dalle macerie, come diceva il nostro presidente, è stata rifondata la rosa dai giocatori, quindi abbiamo scelto giocatori abbastanza giovani per costruire una squadra proiettata a un futuro, da professionisti. Quindi abbiamo fatto in 20 giorni purtroppo una grande cernita di ragazzi abbastanza professionisti. Il mister che io penso reputo di carattere da vendere è colui il traghettatore per trasmettere il carattere che serve nel campo ai giocatori, perché la tecnica abbiamo scelto il plus ultra, poi il rettangolo è quello sempre che dirà la realtà dei fatti. Io non ho molto grande tempo per poter poi spronare la stampa e i media nel dire del progetto, perché siamo quasi a ridosso della preparazione, però mi avvalgo di altri 10 giorni per poter poi mettere sul tavolo, e questo faremo una conferenza stampa con l'ok della proprietà, per verificare il nostro progetto su scritto. Abbiamo 4 anni, 3-4, per poter portare il massimo del professionismo nel calcio. Questo è quello che io posso garantire, perché faccio calcio, non ho purtroppo i grandi prestigi che hanno altri del settore, dove magari entrano più facilmente nelle società in maniera ben diversa. Io ho scelto l'allenatore facendo subito una schietta, uno schietto confronto, perché è il mister, è un professionista di calcio, ha fatto anni di serie A, quindi ho ripetuto abbastanza onore averlo vicino. Questo è tanto.